Union, effettuati sorteggi ottavi di Europa League, andata 9 marzo, ritorno il 16 marzo. La Juventus pesca i tedeschi del Friburgo, gara di andata a Torino alle 21, ritorno alle ore 18.45. La Roma, gli Spagnoli del Real Sociedad, andata allo Stadio Olimpico, sorteggi, tutto sommato, abbordabile per la Juventus. Piuttosto l'avversario della Roma, gli Spagnoli sono sempre da evitare nelle Coppe, tra i match più interessanti Sporti Lisbona, Arsenal e Manchester United-Bettis. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, campanella notifica e un commento. Ciao!